Trasformare due cose inutili in una cosa sola inutile, è una buona idea? Non so. Intanto prendo un mio vecchio auricolare bluetooth e delle vecchie cuffiette con microfono a filo, magari per farci delle cuffie con microfono bluetooth. Rimuovo l'auricolare dissaldandolo dalla scheda, taglio il jack delle cuffiette, saldo i fili alla scheda bluetooth. Operazione abbastanza tediosa visto gli spessori microscopici, ma fattibile tirando giù tutti i santi, e riassemblo il tutto. Bisogna inoltre installare una app, tipo Btmono, Btcarnono, eccetera, capace di instradare flussi audio multimediali su auricolari bluetooth che supportano solo le chiamate telefoniche o ad autoradio interfacciabili a bluetooth esclusivamente in modalità telefono, anche se i canali bluetooth riservati per le chiamate telefoniche sono mono e non di alta qualità. Testo il corretto funzionamento sui tablet android, ma sono utilizzabili su un qualsiasi dispositivo mobile o fisso. La comodità di avere un radiomicrofon e delle cuffiette wireless è in dubbio. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.